Salve amici di Advents Italia, in questo video andremo a vedere la quarta parte e l'ultimo esercizio della prova analisi delle strutture di comunicazione dell'esame CILS livello B2 e certificazione di italiano come lingua straniera. Parliamo di un esame del giugno 2017. Abbiamo già visto i primi tre esercizi, questo è il quarto. In totale abbiamo un'ora per svolgere tutti e quattro gli esercizi. In cosa consiste questa prova? Scegli per ogni espressione una delle quattro situazioni di comunicazione che ti diamo. Devi scrivere le risposte nel foglio delle risposte. Quindi qui più che altro bisogna capire il contesto in cui si svolge la frase. Quindi abbiamo una frase in grassetto, che è la prima in tutti i numeri, e noi dobbiamo decidere in quale contesto si svolge questa frase. Quindi A, B, C e D non sono la risposta alla frase in grassetto, ma sono semplicemente la descrizione del contesto. Quindi se io dico voglio comprare del latte, avrei A, sono in un supermercato, B sono in un'azienda, C sono a scuola e dovrei dire in quale contesto posso chiedere di comprare del latte. Ovviamente sono al supermercato. E lo stesso discorso vale anche qui. Quindi dovete non rispondere a domande, ma dovete semplicemente capire in quale contesto ci troviamo. Cominciamo subito. Attenzione! Gli studenti possono chiedere la modifica del piano di studio dal primo al 30 aprile per esami da sostenere a partire dalla sessione di giugno e luglio. Quindi parliamo di studenti, piano di studio, esami, quindi siamo all'università. Comunque, il tutor universitario risponde alla tua domanda su come variare il piano di studio? No, perché se risponde alla mia domanda mi dice tu puoi fare questa cosa. Qui invece ci dicono gli studenti, è il plurale, quindi è un'informazione per tutti gli studenti, non solo per me. Scrivi una nota sulla tua agenda sulla tua agenda per ricordarti il periodo in cui modificare il piano di studio? No, anche qui per lo stesso motivo, la stessa ragione. Gli studenti è qualcosa al plurale, non è qualcosa che riguarda solo me. Altrimenti avrei detto devo ricordarmi di questa cosa. Nella guida dello studente leggi la regola sulla possibilità di variare il piano di studio? Sì, può essere. Durante una conversazione con tuo collega di università ti dà un consiglio sul piano di studio? No, perché anche qui è lo stesso discorso. Gli studenti è il plurale. Se converso con una persona o penso a qualcosa o parlo con un tutor, eccetera, siamo due persone che parliamo tra di noi, quindi parliamo di uno studente, sì, non di tutti gli studenti. Questa è una regola generale, quindi C, la risposta esatta. Presso la libreria Beccarelli, giovedì 16 marzo 2017, alle ore 17, il Centro Mara Meoni presenterà il passo breve delle cose di Donatella Tognacini. Introduce Teresa Lucente del Centro Mara Meoni. Sarà presente l'autrice. Quindi, una tua amica ti invita alla presentazione di un libro? No. Vedete, la struttura della frase è molto importante. Questa è un'informazione generale che tende a provare o a presentare qualcosa per attirare attenzione, per attirare frequentanti, persone interessate. Non è una conversazione tra amiche, perché una conversazione tra amiche è ciao, vuoi venire con me qui? Qui non abbiamo questo tipo di conversazione, quindi no. La A, sul giornale cittadino leggi la notizia della presentazione di un libro? Può essere. In libreria la commessa ti comunica? No. Sulla copertina del libro leggi in quale occasione il libro è stato presentato? No, il libro sarà presentato qui, quindi non è stato presentato, sarà presentato il 16 marzo, quindi la B dovrebbe essere la risposta esatta. Fate molta attenzione, quindi, quando c'è una conversazione o una persona ti dice qualcosa, la struttura non è questa. Questo è un annuncio. Anche qui è un annuncio. Gli annunci non sono conversazioni tra persone, sono informazioni generali che sono disponibili a tutti. Oggi, per avere un approccio diverso alla nostra disciplina e l'economia, ho il piacere di presentarvi il nostro ospite Niccolò Branca, presidente e amministratore delegato delle famose distillerie Branca. Quindi, qui probabilmente è un professore che sta presentando un ospite alla sua facoltà. A lezione di economia il docente introduce un ospite che parlerà della sua esperienza professionale. Sì, la risposta esatta perché Branca parlerà della sua distilleria, quindi. E siamo a lezione di economia, perché alla nostra disciplina l'economia, dice lui, introduce questo ospite. Sì, il professore dice, ho il piacere di presentarvi, quindi sta introducendo qualcuno. Comunque leggiamo anche le altre risposte, per essere sicuri. Alla radio ascolti un'intervista all'amministratore delegato di un'azienda? No, non è un'intervista. quando inviti qualcuno alla tua facoltà, solitamente gli dai il microfono e lui parla di quello che vuole, non è che si fa un'intervista. In una riunione di lavoro il tuo superiore ti presenta un ospite importante? No, perché parliamo nella nostra disciplina all'economia, si vede che siamo in università. In un lavoro non si parla di discipline, di studio. Durante un convegno sull'economia il moderatore dà la parola all'amministratore delegato della branca. No, non è un convegno di economia, perché dal modo in cui lo presenta, oggi tra l'altro dice oggi, si vede che siamo a lezione, perché la lezione si fa ogni settimana o due volte a settimana, quindi in questa sessione, intende dire lui, o in questa lezione abbiamo invitato questa persona. Mentre se tu sei a un convegno, il convegno si fa una volta all'anno, quindi non dici oggi, ma dici in questa edizione o in questa sessione, eccetera. Buongiorno da Massimo Cero Folini, benvenuti a ETA-BETA per questo numero di telefono, per sms e whatsapp, ETA-BETA Radio 1 per Facebook e per Twitter. Qui c'è probabilmente il giornalista che fa questa questa trasmissione, che sta dando i contatti per il pubblico che vuole mandare messaggi, quindi leggi un avviso sul sito internet della trasmissione radiofonica ETA-BETA? No, perché dice buongiorno da Massimo Cero Filini, solitamente quando si comincia una trasmissione in una radio si comincia sempre così la mattina. E il messaggio della segreteria telefonica del giornalista? No. E la pubblicità di una trasmissione radiofonica che prevende interventi del pubblico? No. Perché non parla... la pubblicità ha un'altra struttura, ad esempio dice noi siamo l'unica radio che fa questo, provateci a seguire ogni giorno, eccetera. No. Il giornalista di una trasmissione radiofonica dà i contatti per gli interventi degli ascoltatori. Sì, gli ascoltatori possono intervenire mandando un messaggio in quei numeri. Cinque. Il programma Erasmus Plus è una forma di mobilità che offre agli studenti l'opportunità di effettuare un tirocino formativo all'estero presso imprese, centri di formazione e di ricerca. Qui è la presentazione del programma Erasmus che probabilmente lo fa all'università e quindi è un annuncio, non è una conversazione tra persone. Leggi le informazioni relative al nuovo programma Erasmus Plus sul sito della tua università? Sì, può essere. Parli con un tuo amico? No. Ascolti alla radio la pubblicità? No. Non è una pubblicità. Sei interessato al programma Erasmus Plus e ti informi presso la segreteria studenti della tua università? No. Perché in questo caso io direi salve, sono uno studente dell'università, mi interessa il programma Erasmus Plus, mi può dare maggiori informazioni? Non siamo in questo contesto, quindi la A dovrebbe essere la risposta esatta. Al parcheggio aeroporto Cattania Parking Go potrai scegliere tra una vasta gamma di servizi complementari alla sosta, lavaggi auto, riparazioni alla carrozzeria, tagliandi e revisioni su richiesta. Questa è una pubblicità di un parcheggio all'aeroporto di Cattania. È un messaggio promozionale di un parcheggio aeroportuale che offre prestazioni aggiuntive? Può essere. È un messaggio di un tuo amico che ti consiglia? No. È il cartello pubblicitario di un parcheggio aeroportuale che vedi lungo la strada? Può essere. È l'offerta di servizi che ti propone l'addetta? No. Non è la comunicazione tra persone questa. Questo è un annuncio che lo vedi da qualche parte. Quindi o A o C è il messaggio promozionale di un parcheggio aeroportuale che offre prestazioni aggiuntive o è il cartello pubblicitario di un parcheggio aeroportuale che vedi lungo la strada? Secondo me è la C perché non offre prestazioni aggiuntive. Offre servizi. C. Tra l'altro questo è tipico di un cartello pubblicitario che solitamente vedete da qualche parte. Secondo me è C. Se nel caso dell'opzione A ci fosse detto offre servizi di riparazioni, lavaggio eccetera avremmo potuto dire A. Ma prestazioni aggiuntive aggiuntive di cosa? Rispetto a cosa? Perché ti dico io ti do una macchina e se la compri ti offro servizi aggiuntivi come ad esempio te la lavo, faccio questo, faccio quest'altro, ti cambio questo, quest'altro. Questi sono servizi aggiuntivi però sai già aggiuntivi a cosa, aggiuntivi all'auto. Qui invece dice semplicemente aggiuntivi ma aggiuntivi rispetto a cosa? Qual è la base a cui aggiungiamo servizi? Quindi secondo me è la C. Vedremo poi anche il foglio delle risposte. La 7. Guardi è molto semplice fare l'autolettura dei consumi del gas. Deve scrivere i primi sei numeri del contattore del gas, telefonare il numero verde e seguire le istruzioni. Quindi qui è una conversazione dove probabilmente un amico ma anche un esperto dà consigli su come leggere il consumo del gas a casa. A casa dai spiegazioni a tua sorella su come fare l'autolettura? No, perché dico guardi, do del lei. A mia sorella non do del lei. Direi guarda, non guardi. Sulla fattura del gas legge le istruzioni per comunicare la lettura del contattore? No, perché è una conversazione. Ci basiamo su guardi. Se fosse sulla fattura si scriverebbe per maggiori informazioni entrare qui, 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 ma non leggiamo su una fattura guardi. Un operatore dell'azienda del gas ti spiega come fare l'autolettura del consumo del gas. Sì. Al telefono ascolti le istruzioni del risponditore automatico? No. Il risponditore automatico ti dice semplicemente una frase sempre o ti collega ad un'altra persona ma non conversa con te. Numero 8. Camera singola in affitto in appartamento vicino al Politecnico. L'appartamento è composto da due camere doppie. Una singola, cucina abitabile, una grande sala comune, due bagni con doce. Il prezzo della singola è di 360 euro. Chiamare questo numero. Qui, questo è un annuncio di una camera in affitto che può essere messa da uno studente o dal proprietario della casa. Quindi è un annuncio, non è una conversazione. Scrivi un messaggio ad un tuo amico? No. Leggi un annuncio di una camera in affitto nella bacheca del Politecnico? Sì. Solitamente le trovate spesso in bacheca alla facoltà in cui studiate. Sul sito dell'università? No. Ascolti la descrizione? No. Non ascolto. È un annuncio scritto. Sul sito dell'università? Leggi le caratteristiche della camera? No. Perché non si tratta di residenza universitaria ma di un appartamento? Quindi B dovrebbe essere la risposta esatta. Numero 9. Ragazza di madrelingua francese? Cerca madrelingua italiano per uno scambio di conversazione francese-italiana? Contattare questa mail. Quindi è un annuncio scritto da qualche parte dove una ragazza cerca un ragazzo per scambiare o per migliorare la lingua. lei vuole migliorare l'italiano e il ragazzo vorrebbe probabilmente migliorare il francese oppure semplicemente la ragazza chiede di pagare qualcuno per migliorare la lingua. Ma siccome si parla di scambio di conversazione solitamente si fanno gratis. Cioè io ti insegno il francese e tu mi insegni l'italiano. È un messaggio lasciato alla segreteria? No. È un annuncio scritto. È la pubblicità di un nuovo sito? No. È uno scambio di informazioni tra studentesse di un corso di laurea di lingue? No. Perché non dice voglio qualcuno che mi aiuti dal mio corso di lingua eccetera ma è in generale. Può averlo messo online cerca da tutta Italia non dal suo corso. È un annuncio per trovare una persona con cui parlare la lingua italiana. Sì questo è perfetto come descrizione di quello che abbiamo detto. Ultima alla 10. Vieni in negozio a scoprire i nuovi occhiali da sole a un prezzo mai visto. Occhiali a 40 euro con lenti antigraffio. Anche questo è un annuncio. Anche se ci dice vieni dalla struttura non è una conversazione. È più un annuncio pubblicitario che si ascolta alla tv o alla radio. Vieni in negozio a scoprire questi occhiali. Occhiali a 40 euro. Secondo me da come è scritto sembra un annuncio pubblicitario su una radio o tv. In un negozio di ottica il proprietario parla con un cliente? No. Perché? Non avrebbe nemmeno senso perché dice vieni in negozio. Se il cliente è lì non ha bisogno di venire. È già lì. E la promozione di un tipo di occhiali? No. In generale... No, attenzione. Occhiali da sole. Quindi la promozione di un tipo di occhiali? Sì, solo occhiali da sole. È ovviamente una promozione. Non tutti gli occhiali, solo quelli da sole, da quanto vediamo. Due amici parlano? No. È la pubblicità di un negozio di ottica. Allora tra B e D io direi B perché potrebbe anche non essere un negozio di ottica. Cioè anche i negozi di vestiti hanno occhiali da sole che vendono. Quindi vieni in negozio. Non dice vieni nel negozio di ottica. Può essere anche un centro commerciale. quindi secondo me per questo motivo tra B e D direi B. Vediamo anche il foglio delle risposte. Questo è il quarto esercizio. Dovremmo aver risposto correttamente. La 10 appunto è B. Vi ringrazio della vostra attenzione. Vi lascio in descrizione anche la playlist CLS B2 analisi delle strutture di comunicazione con altri esempi di questa prova degli altri anni. Se vi servono maggiori esempi se non vi sentite ancora sicuri di svolgere questa prova. E ovviamente se cliccate sul mio canale, sul nome Advanced Italian, entrate sul mio canale e nella sezione playlist trovate tutte le playlist con tutti gli esami di italiano di tutti i livelli, dalla A1 al C2, non solo grammatica ma anche comprensione della lettura, ascolto, prova scritta, prova orale e trovate anche le prove complete. Quindi se la playlist finisce con prova completa, in questo caso CLS B2 analisi delle strutture di comunicazione, prova completa, avete l'intera prova e un'ora di tempo così come all'esame. Io non vi spiego nulla, faccio semplicemente passare le prove ogni 15 minuti e voi avete il tempo che avreste all'esame per svolgere la prova, scrivete tutto in un foglio e negli ultimi minuti del video vedrete anche il foglio delle risposte. Questo lo faccio per farvi capire se siete in grado di svolgere la prova oppure no, perché ascoltando qui magari vi sentite sicuri, ma quando provate poi a farlo per conto vostro potreste avere difficoltà, quindi vi offro questa possibilità, se vi va. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!